Benvenuti cari telespettatori, per questa nuova edizione delle Vallefoglie e Pian del Bruscolo Magazine, l'unico approfondimento sul territorio di Vallefoglie e i comuni limitrofi. Prima di partire con la prima notizia, però, vi ricordo di inviarci le vostre segnalazioni al numero che vedete in sovraimpressione, oppure l'email vallefoglia-rossinitv.it. Vallefoglie e Pian del Bruscolo Magazine, che apriamo parlando dell'arretramento ferroviario che sta coinvolgendo il comune di Pesaro e non solo, perché in settimana il sindaco di Vallefoglie a Palmi Rucchielli ha rilanciato una proposta di collegamento ferroviario tra le coste e le aree interne. Dopo l'approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dell'arretramento della ferrovia adriatica nel tratto pesarese, il primo cittadino di Vallefoglie ha rinnovato la proposta di uno studio di fattibilità di un collegamento ferroviario con le aree interne ed in particolare fra le vallate del Metauro e del Foglia. Il tratto ferroviario Pesaro-Fano, Fossombrone-Urbino-Schieti-Cagallo-Borgomassano di Montecalvo in Foglia, Rio Salso di Tavuglia, Montecchio di Vallefoglie e Pesaro, collegato alla nuova stazione ferroviaria che dovrebbe sorgere nella zona di Villa Fastigi, offrirebbe un'ottima opportunità alle numerose aziende operanti nell'entroterra per migliorare la logistica ed incentivare gli scambi commerciali. E a Montelabate in settimana si è tenuta una conferenza stampa dove si è dibattuto su un nuovo sistema di irrigazione sostenibile in agricoltura. Presente anche una docente dell'Università Politecnica delle Marche che ci ha spiegato le particolarità. L'acqua è un bene prezioso e mai come d'ora è importante esserne consapevoli. Trovare metodi alternativi come un'irrigazione sostenibile in agricoltura è quanto si è discusso venerdì pomeriggio nella sala del Consiglio Comunale di Montelabate dove tra gli invitati era presente anche una docente dell'Università Politecnica di Ancona. L'agricoltura può fare la sua parte e soprattutto cercare di utilizzare l'acqua in maniera più possibile ottimale. E attraverso, ad esempio, noi stiamo facendo proprio all'interno dell'Università Politecnica delle Marche degli studi che riguardano praticamente la riduzione dell'acqua su determinate colture e verificare dal punto di vista produttivo, qualitativo e nutrizionale come le risposte da parte della pianta. Questo innovativo impianto di irrigazione è presente in alcuni terreni di aziende agricole del Comune di Montelabate. Stiamo adesso in questo momento elaborando i dati che abbiamo preso nell'arco di questi anni soprattutto dati a livello di queste aziende agricole che sono produttori di pesche che anche in questo caso ci sono differenti regimi idrici e stiamo in via di elaborazione e a breve ci saranno. Quindi la specificità di questo procedimento rispetto agli altri qual è? Il risultato finale è quello di cercare di testimoniare attraverso i risultati che una riduzione d'acqua nei confronti del pesco non va a influire negativamente anzi in alcuni casi c'è un aumento della qualità quindi dal punto di vista, ad esempio, del contenuto solido solubile presente nelle pesche quindi un maggior contenuto zuccherino che assolutamente da parte dei consumatori è ben apprezzato e rende felici un po' tutti, rende felici i consumatori ma anche i produttori in quanto va a valorizzare la pesca, il prodotto finale. E l'Università di Ancona sta testando questo nuovo sistema di irrigazione su alcuni terreni agricoli di Montelabate focalizzandosi sulla coltivazione di pesche. Sentiamo ora la voce del presidente dell'Associazione Pesca di Montelabate che ci spiega come è stato applicato questo nuovo sistema nel suo campo. Vediamo. Adottare un sistema di irrigazione sostenibile si può fare? Sì, e a spiegarcelo è il presidente dell'Associazione delle Pesche di Montelabate nonché noto agricoltore, il Sorenzi. Un'irrigazione che parte da una centralina e che poi viene diramata nelle coltivazioni. Noi prima di tutto usiamo l'impianto di irrigazione del Consorzio di Bonifica Marche dove ci arriva una pressione di 4-5 atmosfere che poi noi distribuiamo nei vari settori del peschetto. Quando arriva l'acqua passa attraverso il filtro, quello blu, e poi da lì riparte con un piccolo programmatore. Viene programmate i giorni di irrigazione, le ore di irrigazione. Se guardiamo in alto c'è un pluviometro dove automaticamente, se piove, salta i programmi previsti di irrigazione. Perciò diciamo che tutto l'impianto è rivolto al risparmio dell'acqua cercando di calcolare anche che le produzioni non risentano il negativo se noi diamo meno acqua. E poi c'è l'ultima fase che è quello che poi distribuisce al campo. Dal filtro riparte, dicevamo, poi va a delle valvole comandate elettricamente dal nostro programmatore e da quella fase passa l'irrigazione interrata dove poi arriverà ai vari settori, al peschetto, al meleto. Abbiamo divisi in quattro settori in modo da programmare i tipi di irrigazione in base anche alle qualità delle piante. Perché ad esempio il pesco ha bisogno dell'acqua quando c'è l'ingrossamento del frutto fino all'indurimento del nuciolo. Poi dopo ha bisogno, negli ultimi 20 giorni, di crescita verso la maturazione. Da quanto tempo avete questo sistema nel vostro campo e quando sperate di riscontrare i risultati? Allora, questo tipo di impianto è due anni che l'abbiamo e il riscontro purtroppo l'anno scorso non l'abbiamo potuto fare perché proprio in questa varietà il gelo aveva causato, non c'era nessuna produzione. Ecco, queste tre file si distinguono l'una dall'altra nella quantità di acqua che abbiamo visto prima la centralina distribuisce e in pratica nella prima fila abbiamo la distribuzione di 12 litri all'ora, nella quella centrale di 8 litri all'ora e nella terza di 4 litri all'ora. Ecco, l'università con le verifiche che fa periodiche misura ad esempio la grandezza dei rami col calibro, pesa ad esempio i rami che vengono tagliati alla potatura, calcolano le foglie che ci sono nella pianta e fanno 8-10 visite all'anno per fare tutte queste verifiche. Qual è la vera particolarità di questo sistema rispetto agli altri che avete nel vostro campo? La particolarità è che riusciamo a controllare la quantità di acqua che abbiamo e con le misurazioni che fa l'università a capire qual è la quantità giusta per avere un raccolto e uno sviluppo della pianta ottimale. Noi abbiamo visto che per il momento la verifica che si fa ogni anno ci dà la possibilità di dire che quella che ha 8 litri di distribuzione potrebbe essere l'indicazione ottimale. Ogni tot di mesi ci sarà una verifica da parte dell'università che verrà qui sul campo a valutare lo stato di salute delle piante, il prodotto anche finale. Le conclusioni sono tratte alla fine, perché un lavoro scientifico deve superare i 4-5 anni di verifica. Andremo a vedere anche dei tensiometri che abbiamo sottoterra che ci misurano e ci dicono la quantità che abbiamo di acqua nel terreno perché uno lo rileva a 30 cm e gli altri a 60 cm e questo qui ci indica quando è ora di innaffiare. E proseguono regolarmente i lavori per la realizzazione del nuovo cinema, teatro, auditorium per la musica, bottega. La nuova struttura in via di costruzione avrà una capienza complessiva di 336 posti sarà utilizzata principalmente da tutte le scuole del territorio di ogni ordine e grado ma ne potranno beneficiare anche i gruppi giovanili, i complessi bandistici, i cori e le compagnie dialettali in quanto l'opera è stata progettata per essere al servizio di tutta la ballata del Foglia. Lavori che avanzano anche per quanto riguarda la realizzazione della nuova sede comunale di Vallefoglia. In questi giorni le ditte aggiudicatarie dei lavori stanno eseguendo le finiture interne con la realizzazione dei pavimenti, rivestimenti, controsoffitti con il completamento degli impianti elettrici, sanitari e della climatizzazione. Sempre all'interno della struttura si sta eseguendo l'installazione dell'ascensore e la tinteggiatura delle pareti divisorie. Per quanto riguarda invece l'esterno si sta procedendo al rivestimento delle pareti con piastrelle in gress porcellanato che daranno un aspetto gradevole al fabbricato in armonia con l'ambiente circostante. Lavori che invece partono nel comune di Tavuglia che riguardano l'impianto di illuminazione nella pista ciclopedonale di Padiglione. Un provvedimento che era in programma nella lunga lista degli interventi del sindaco Paolucci e che ora può finalmente concretizzarsi. Lavori che prevedono un'installazione di 85 pali della luce a led per un investimento da 150 mila euro e che coinvolgono il tratto che collega Padiglione a strada del Re dei Gatti di Montecchio. Un intervento che va di pari passo con quello di Marche Multiservizi per il rifacimento della conduttura fognaria che passa accanto alla pista ciclopedonale di Padiglione. Quello del nuovo impianto di illuminazione è un'opera che potrà permettere ai cittadini di usufruire della ciclovia anche in mancanza di luce. E parliamo ora di Monbaroccio. Visto che il 5 di aprile è stato presentato a Gerusalemme davanti addirittura al presidente di Israele, il libro di Alfredo Sarano, Siamo qui, siamo vivi. Un libro che nel 2023 potrebbe diventare un film. Sentiamo ora le parole d'orgoglio del sindaco Emanuele Petrucci. È stato un momento veramente toccante il sentito perché presentare quello che è successo a Monbaroccio anche nella forma ebraica davanti al presidente di Israele, raccontandogli quello che è Monbaroccio, raccontandogli quello che hanno fatto i monbaroccesi, l'anima che ci hanno messo per salvare chi fuggiva dall'astrellamento i tedeschi, è stato veramente emozionante e toccante perché rappresenta una piccola comunità come quella che ho l'onore di rappresentare. Quindi un momento sentito insieme alla famiglia Sarano, insieme alla famiglia Ciaffoni che era presente con noi in Israele alla presenza del presidente Herzog. Sicuramente a ottobre, se tutto è rispettato nelle scadenti, ci sarà la prima presentazione del documentario, atto a tutto quello che è il percorso della realtà dei fatti con tutte le voci delle attuali figure che erano con noi in Israele ed altre e il prossimo anno potrebbe diventare un film grazie al produttore Armand Giulian che sta lavorando sul copione e sull'organizzazione di tutto lo staff. Il film sarà girato in particolar modo per l'80% tra il Biato Santo e Monbaroccio, riguarderà Pesaro, riguarderà Monte Maggiore per la linea gotica per l'altro 20%. Potrebbe interessare in parte anche la sinagoga di Senigallia perché il produttore americano di Hollywood, Armand Giulian ha individuato anche in quella sinagoga un elemento contraddistintivo. Quindi le figure interessate, le realtà interessate sono per gran parte del mio territorio e la realtà di Monte Maggiore è in parte quella della città di Pesaro. Un percorso che potrebbe vedere anche un grande staff a livello di protagonisti per quelle che sono le figure che Giulian ha attualmente anticipato e che coinvolgerà tutto il territorio della provincia di Pesaro Urbino. A Vallefoglia è stato approvato il progetto di utilità collettiva denominato Servizio di tutela dei beni comuni che prevede l'impiego di personale per settore del reddito di cittadinanza in compiti che consistono nella cura, nella pulizia delle piazze, delle piste polivalenti e dei parchi pubblici del territorio comunale. Il progetto prevede l'impiego di 5 beneficiari del reddito di cittadinanza per 15 ore settimanali ciascuno e alla durata di un anno, favorendo il futuro inserimento nel mondo del lavoro. Voltiamo ora pagina tornando a parlare del biodigestore, un tema che da tempo divide i cittadini di Vallefoglia e dei comuni limitrofi. Sabato 9 aprile al centro commerciale di Montecchio in via Piola Torre ci sarà un approfondimento sul digestore organizzato dall'associazione Diversamente, un'iniziativa volta al confronto e al dialogo su questa delicata tematica. E a Montelabate in occasione del 2 di aprile, giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, è stato installato un gioco di colore blu nel giardino comunale di via Galilei ad Apsella. Un simbolo che testimonia quanto sia importante sensibilizzare i cittadini su questa tematica e che sottolinea quanto la diversità tra gli esseri umani sia in realtà una vera fortuna. E dopo la Pump in Patch di autunno torna con un'altra iniziativa a tema primavera, il giardino dei colori. Gli datori sono due ragazzi di 22 anni che hanno deciso di coltivare oltre 40 tulipani di ogni colore e tipologia. Numerosi laboratori didattici in programma in attesa di Pasqua, ma per saperne di più vediamo il prossimo servizio. Abbiamo invitato sia grandi che piccoli a raccogliere i tulipani. Ne abbiamo piantati più di 40.000 tra tulipani e giacinti. Ci saranno anche tantissime attività, soprattutto indirizzate ai più piccoli, laboratori creativi, eventi, eventi di magia. E poi potrete venire a visitare il nostro giardino a tema Amsterdam, quindi con un mulino gigante e tantissime altre curiosità. Quanti fiori sono presenti e quali tipologie di tulipani? Allora, sono presenti circa 40.000 tra tulipani e giacinti. Tulipani di diverse varietà, un po' di tutti i colori, quindi vari opinti e 4-5 varietà di giacinti. In più poi abbiamo anche diversi ortaggi, zafferano e insomma altre tipologie di piante più della zona. Primavera, Pasqua e quindi avete anche delle attività per quei giorni festivi? Sì, abbiamo varie attività. Il giorno di Pasquetta si potrà fare il picnic vista a campo, quindi un picnic a bordo campo tutto colorato e fiorito. In più avremo ogni domenica mattina il laboratorio per i più piccoli, che avremo il laboratorio di semina e di decoro del vasetto. Oppure avremo il sabato mattina invece il laboratorio di pittura, rivolto a tutti, sia grandi che piccini. Sarà anche un po' particolare perché non coloreremo con i classici pennelli, ma useremo sostanze naturali come ad esempio fiori, rametti e sostanze biodegradabili. A Pasqua avremo la caccia alle uova per i più piccini e anche il decoro delle uova. In più una sorpresa molto cioccolatosa. In più a Pasquetta avremo i picnic a bordo campo per chi vuole, quindi vi potete portare il proprio pranzo al sacco. In più avremo il mago Alex che farà tante magie, magie fra i tulipani e magie itineranti. Farà anche uno spettacolo di magia sia per i più grandi che per i più piccini. Quali sono i giorni che aprirete al pubblico e qual è il pubblico di maggior riferimento? Apriremo da mercoledì 13 fino a domenica, quindi da mercoledì a domenica, tutti i pomeriggi dalle 14.30 alle 18.30, sabato e domenica anche la mattina dalle 9.30 a mezzogiorno e 30. E indirizzato a tutti, dai grandi ai più piccoli, alle famiglie, alle coppie, a gente adulta, insomma un po' a tutti. Siete stati soddisfatti per quello autunnale o sperate che ci sia ancora maggior gente per quello primaverile? Speriamo che ci sia sicuramente più affluenza e noi siamo super cari che aspettiamo solo voi. E concludiamo parlando di sport partendo dalla pallavolo. La Megabox Vallefoglia infatti reduce dalla salvezza ottenuta mercoledì scorso a Roma, è scesa per l'ultima volta in campo in questa stagione sabato al Palacarnaroli di Urbino. Le avversarie erano ancora una volta le capitoline che si sono imposte sulle Tigri per 3-7 a 2. Una vittoria che alla squadra di Roma non è servita, classificandosi al penultimo posto e retrocedendo in Serie A2. Per la Megabox si conclude un'ottima prima stagione in A1, terminata al nono posto con ben 25 punti ottenuti. Passiamo ora al calcio locale con l'Atletico Gallo che nel giro di tre giorni ha disputato due partite, ottenendo 4 punti. Domenica in casa contro il Marina ha trionfato per 2-0, mentre nel recupero di mercoledì è uscito con un pareggio dal campo dell'Urbino fermato per 0-0. In promozione, brutto KO del K-Sport Montecchio, che fuori casa contro la Vigor Castelfidardo, è stato sconfitto per 2-0, trovandosi ora a due punti dalla zona play-off. Chi invece rimane in zona play-off è il Valfoglia, che con lo 0-0 ottenuto sul campo dell'Oreto è salito a 39 punti in campionato. In prima categoria, ottima vittoria per l'Osteria Nuova, che continua il suo stato di forma, vincendo per 2-1 in casa contro il Muraglia. Pareggio per 1-1 invece per l'Atletico Tavuglia, fermato in trasferta dal Vismara, vedendo ora la vetta distante 4 punti. E con lo sport si conclude questa nuova edizione delle Valle Foglia e Pian del Bruscolo Magazine. Vi ringrazio per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo 15 di aprile e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie. 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 Grazie.